Buongiorno a tutti, sono Valerio di Potere al Popolo Volla, vi volevo invitare alla polizia della villetta del Bolivar che stiamo effettuando, come vedete, in questo momento con tutti i ragazzi che stanno dando una mano. C'è stato un bel riscontro di persone che è venuta per aiutarci a riqualificare questo posto a cui noi teniamo conto. Teniamo in generale a questi spazi verdi che non vengono sfruttati e vengono lasciati un po' a loro stessi. E quindi, niente, volevamo invitarvi appunto a darci una mano. Numerose persone già l'hanno fatto, c'è anche chi ci è venuto a dare un po' da bere, a farci qualcosa, perché comunque la giornata è calda. Quello che stiamo facendo è molto importante. Dopo che avevamo affisso i manifesti funebri contro la cia mentificazione, diciamo già si era un po' risvegliata la coscienza pubblica della vita. E molti hanno anche cavalcato un po' questa onda del verde, dove c'era stato un silenzio comunque assordante per riguardo appunto all'argomento. E niente, pensiamo che una settimana alle elezioni, molti sono passati anche per questa villa, giacca e cravatta, io penso che serva a poco. Quello che serve appunto è risvegliarsi e riprendersi questi spazi. E noi lo stiamo facendo, sbaccandoci le mani. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.